Diciamo che stiamo lavorando bene, abbiamo creato un bel gruppo, abbiamo messo a frutto un po' i schemi che abbiamo provato in questi giorni con il mister, stiamo andando bene e spero che arriveremo già in Coppa a fare un buon risultato. Ma per quel motivo quando ti hanno chiamato hai subito detto sì al Gela? Beh innanzitutto a me piacciono le piazze importanti, le piazze calde, l'anno scorso sono stato in Francaville che non era una piazza molto calda ma faceva pochi tifosi e tutto, quindi magari anche dagli stimoli e tutto. Mi hai detto che a Gela ci sono come media 4-5 mila spettatori? Sì sì sì, lo sapevo. E dunque è chiaro che per una piazza così importante, con un pubblico così caloroso, non si può puntare alla salvezza? No, ovviamente stiamo costruendo, stiamo facendo tutti questi sacrifici per puntare qualcosa di più grande, magari una Lega Pro sarebbe... Anche perché poi la Serie D rappresenta, se vogliamo, la ex Serie C2? Sì 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 sì, però diciamo se si può andare, si punta sempre in più in alto. La Lega Pro sarebbe l'ideale? Sì sì, l'ideale, l'ideale per tutti.